Finisce qua il nostro mese di agosto, 31, spero che l'estate sia passata bene o che comunque magari per qualcuno inizi adesso, San Aristide, compleanni, Richard Giri, l'attore statunitense Il Bello, il 31 agosto del 1949. Il nostro Enzo Iacchetti, attore, comico, conduttore di striscia, nato il 31 agosto del 1952. E vediamo subito il proverbio che ci ricorda Di settembre e di agosto bevi vino vecchio e lascia stare il mosto, oroscopo di oggi Ariete, risposte incoraggianti nel lavoro. È una giornata favorevole che promette di raggiungere migliori risultati con minori sforzi. L'ingresso di Marte nel vostro segno vi stimola a prendere iniziative vincenti, slanci creativi e voglia di affrontare le novità. Toro, Venere e Sole favoriscono l'armonia e vi aiutano a lavorare bene per conquistare posizioni di equilibrio. Ottima sintonia con la persona amata. Siate disponibili con un amico in difficoltà e lasciatevi coinvolgere da un progetto che promette bene. Gemelli, comunicativa e voglia di gioco da incoraggiare. Tenete invece sotto controllo i voli della fantasia. Gli eccessi potrebbero destabilizzarvi. Momenti distensivi con gli amici in serata. Atmosfera magica per chi riesce ad assaporare il contatto con la natura. Irrequitezza nei sentimenti. Cancro, la diversità di esigenze può creare qualche tensione nei rapporti tra voi e gli altri. I pianeti vi incoraggiano a difendere l'equilibrio. Non tentate di uniformarvi a tutti i costi. Buon umore questa sera durante un incontro con gli amici. Leone, impegni sociali e lavorativi vanno conciliati con quelli della vostra vita privata. Non trascurate la salute. Un accumulo di tensioni può rendere più fragile il vostro equilibrio. Vergine, via libera ad una trattativa che ha tardato a concludersi. Occasione favorevole per vivere con maggiore disponibilità i rapporti con gli altri. Molta vitalità oggi da spendere. Il sole e venere favoriscono le attività più dinamiche. Una discussione di lavoro va affrontata con le idee chiare. L'amore va a gonfie vele. Bilancia, la giornata vi chiama a fare le scelte giuste. Basatevi sulla prova dei fatti senza lasciarvi pilotare da idee preconcette. Elasticità e larghezza di vedute vi aiuteranno a guardare più lontano. Accogliete una richiesta di collaborazione, cambiamenti nel panorama affettivo, persone nuove e atteggiamenti più spregiudicati in serata. Scorpione, in campo lavorativo avete voglia di lanciarvi in iniziative nuove. Qualche fatica in più ma anche ottimi stimoli da Marte che vi aiuta a svincolarvi dai condizionamenti. In famiglia non rinunciate a fare valere il vostro punto di vista, anche se è sempre meglio non scendere in polemica. Sagittario, validi aiuti per chi è chiamato a superare una prova difficile, con straordinaria capacità di ricarica. Approfittate delle occasioni giuste per rigenerarvi. Il pieno di energie servirà anche per procedere sempre più spediti nel prossimo futuro. Schermagli vincenti in amore. Capricorno, i pianeti continuano a darvi un'ottima forma psicofisica. Approfittatene per recuperare terreno in campo lavorativo. Date spazio alla fantasia e alla creatività. In famiglia una provocazione vi fa perdere le staffe. Buona sintonia in serata con il partner. Aquario, approfondite un interesse che vi appaga e vi permette di dare più sapore ai rapporti con chi vi circonda. Fate in modo che ragione ed intuito procedano nella stessa direzione. Una scelta diventa urgente, l'inazione vi danneggerebbe comunque. Pesci, irrequietezza e fantasticherie. Fate le mosse ispirandovi alle soluzioni più pratiche possibili. Non assecondate la tendenza all'improvvisazione. Assumetevi una responsabilità che potete gestire con successo. Con gli amici stasera riuscirete a dire le parole giuste al momento giusto.